Professor Schitulli, nel campo della ricerca oncologica ci sono delle novità in particolare per quanto riguarda il nostro paese? Diciamo che la ricerca ci sta dando delle risposte molto positive per quanto riguarda la lotta alle varie malattie e anche in particolare alla malattia cancro, che è ancora una malattia destabilizzante sotto certi aspetti, sia sotto l'aspetto fisico sia sotto l'aspetto psicologico, ma oramai anche il cancro è considerato una malattia guaribile, perché siamo riusciti nel giro di 30 anni a portare la guaribilità dal 35% al 61%. Potremmo oggi parlare di guaribilità intorno all'80% se mettessimo in atto tutti i sistemi di prevenzione e la ricerca sta dando anche dei buoni risultati a livello di prevenzione, cioè noi dobbiamo cercare di arrivare a scoprire quella molecola, quella sostanza che somministrata almeno nei soggetti a rischio ci consenta di non sviluppare il cancro. Del resto il cancro è una malattia della quale conosciamo già molto a partire dal 2000 con la decodificazione del nostro DNA, sappiamo che è una malattia ambientale su base genetica, che significa ambientale su base genetica? Significa che è l'ambiente, e l'ambiente è tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che è esterno all'uomo, da ciò che noi mangiamo a ciò che noi respiriamo, a ciò che noi tocchiamo. Ecco, l'ambiente va… E' questa mutazione, questo cambiamento dei nostri geni, che avviene poi a tappe successive, alla fine fa sviluppare il cancro. Passano a volte anche molti anni e si determina quindi questa patologia. Però questa patologia oggi è diventata guaribile grazie al frutto della ricerca, ma anche alla cultura della prevenzione come metodo di vita, e per cui i cittadini sanno, la gente sa, la persona sa che se previene questa malattia non morirà per questa malattia. Ecco l'importanza del ruolo della prevenzione e della ricerca che ci ha consentito anche di poter oggi avere una panoramica molto ampia a livello diagnostico. Noi vent'anni fa non potevamo contare sulla PET, sulla risonanza magnetica, sul TAC. Oggi abbiamo questi mezzi che ci consentono di scoprire le lesioni minimali di pochi millimetri.